dai ostii giusta giusta vai vai la linea Luca ma che c'è in fondo uno ma dalla sua ma dove andiamo ma forza dai Jacopo buonasera bravo oh raga sveglia veloce veloce oh che quello va dai una mano meno male no così perché sei abbassato oh figlio bravo Luca dai raga dai raga dai su guarda su se c'era dentro la trovovilla come no ma fai scire dai hai una sveglia raga da tutta la l'uomo Sì, ma Davide continua a recuperare. Buttala fuori Fuma, buttala fuori, buttala fuori, buttala fuori, buttala fuori, no, siccome stava attaccando lui si senteva paura, dopo gli ha detto guarda buttala fuori, attenzione raga, dai! Sì, guarda, 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 guarda! con lui sei è appena tornato con lui? no, abbiamo sei fuori fortunati e tre li abbiamo venduti venduti? si uno in serie D e due in eccellenza così si dice ma al 2000? eh sì ma per ora vedi più di 2000? eh eravamo in 29 a quale è la finta forte? eh andata ma dell'eccellenza? si a Verbano bravo dai bravo ce n'era dai ma non è la prima squadra? eh quinta ah però ha 27 punti che se gli ridanno i tre punti della propiacenza è a 30 perché è fallita la propiacenza ma non ha giocato? no non ha giocato adesso se non si presentano il 20 che è la prima no no si presenta con la Bioretti eh ma bisogna vedere se glielo fanno fare perché il giocatore ha messo e muore la società e non è data che te lo fanno fare eh no però se tu ti presenti con la squadra puoi andare puoi farlo sì no non mollarlo no la regola devo vedere se perché anche i ragazzi della Bioretti qualcuno si è andato eh sì c'è nessuno dietro ragazzi e ancora al me o calma ora anche i 17 non si è svinchiato ma poi perché non ce ne sono più neanche noi ha neanche loro no è andato a svinchiare un po' di ragazzi eh sì 2-3 sono andati a piacere esatto anche i ragazzi è andato perché una volta che si muore alla società è andato proprio lo salto lo svincolo eh sì anche se non è rigore ma che cazzo intervieni che hai di spalle puttana troia eh non lo so ho fatto parlo con te non l'avevamo visto buon buon putt poi non è che sia rigore nero quindi i ragazzi sono tutti di lì o sì Milano qualcuno di Navarra e se andiamo ai Gabriel ti metti un po' poche strane sì sì mezz'oretta un 2 mila No, no, 2.000 Dai però, dai raga, ancora, dai Non è finita, dai Questa è la soluzione Uno le tiglie da dentro, l'altro sta là Dai, è forte Bravo Luca Oh Luca Oh, tieni l'arichi un attimo E bravo Matteo Bravo Bravo No Brambo Che l'ha stato tu lì Bravo Retro la linea Andrea Ora che prendiamo le linee Guarda dove Davide Guarda dove Davide Ora che prendiamo le linee adesso Oh Ho seguito, quello che si fa Ho seguito Scusa, mi credo che c'è una squadra Ma fa la messa Figa Va a dover a largo Ehi Matti Oh Toro 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 Cazzo, va a fumagale Non vai te Toro 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 bravo sera, bravo non è solo entrato no, basta, basta questo pomo no, va a tirare organizziamoci bene senza problema no, forza vieni, pula sopra, non fermi sovira bravo vieni, vieni vieni, vieni perdere metri bravo più alto vai in quarto vedi che non ce l'ho capito bene non ce l'ho capito bene va dentro Ricky bravo bravo se la giocava lunga era meglio si temati dai, dai, dai che rocchona dai, dai, dai dai, dai la morosa che la mamma la morosa che la mamma ecco perché non la stare qua in panchina oggi dai, già che recuperiamo la seconda figa coleggi ma sta ad saltare più atto senza farlo tranquillo calma, calma Tommy 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 direttore, allora facciamo il cartellino, eh Vieni il cubacchio, è più aperto. Si, tira un po'. Inizia, inizia! Fuori che presa! Fuori che presa! Vai Alpe! Principone, quelle dentro! Allora il derby! Aio! Non mi ha fatto la 4. 4 l'ha fatto. Ha fatto il 4. No, l'ha fatto il 4. Non stiamo sbagliando in giro. Pensavamo che l'aveva fatto il 4. O ce l'aveva fatto il 4. Staccati Davide! Staccati che si crea spazio per Giorgio! Staccati che si crea spazio per Giorgio! Sperimento, bravo! Infidi a Riccardo! Infidi a Riccardo! Arga Sierni! Sì! Toffero! Sì! Solo 5 con la gamba! E il Giorgio! E' un 10. E' un po' di. E' un po' di. E' un po'. Davanti! Marco Pede! Marco Pede! Erni, Erni, guarda che lì è il 10! E' un occhio al 10! E' f***a, hai presi a scatola qui! Io ho pieno che vengo qua le hai presi! Eh no, io dico per i giorni va bene! Dai, dai, dai! Io ancora già per terra il portiere! Bravo Ben! Io non sparo! Erni, Erni! Non la fai capire, si come si fanno per la pollone, si! Aiuta, si, gioca, salga a tre! Sì, continua, continua! Bravo! Bravo! Bravo Luca! Bravo Luca! Bravo Luca! E' un po' 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 guarda davanti subito punta per me guardalini aveva ragione chiudi la radice chiudi la tranquillo tira chiuso bravo aiutano 1, 1, 1, 3 bravo, bravo Erbè bravo, bravo, bravo Stasio no no, è il cross all'indietro, non può essere accoggi no no, lì c'è che fosse, no, lui è lì, è lì è vero, non posso neanche si può vederla c'è anche il sole in faccia, ma era anche indietro poi anche non era allineata bene dai raga, dai eh, su, dai bravo, bravo, bravo bravo, bravo, bravo bravo, manda bravo 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 Luca bravo 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 Ehi, partire tre ore prima... Beh, non è un po' più... ...che si è andata, in un torritorio, no? Si... ...che si è andata con il monza, che si è andata con la proposta... ...che si è andata con il monza, che si è andata con il monza... ...che si è andata con il monza... ...ehi, guarda addirittura... Bravo Matteo! Salve Matteo, salve capi! Bravo Arne! Bravo! Salì, salì! Ehi, salì! Ehi, salì! Dai, salì! Ehi, salì! Eh, girato di là! Non ho sbagliato! Eh! Ieri da solo o qua? Ehi, non lo so, eh? Bravo Bera! Bravo Bera! Ha fatto la puttanata! Ci voleva! C'è un animale... Ce l'ha regalata... ...ce l'ha data indietro, dai! Dai che non pressano, dai! Gioca, su! Dai, vera! Dai, vedi, là! Gioca, dai! Tanto non ti pressano! Eh, ma non ti pressano! Non ci fa tra uno gioco in questa partita, no? Vedi, ma poi non ti pressano neanche loro, non ci hanno neanche vogliono anche loro... No! 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 Non è finita! Bravo Iachi! A posto! Vieni scusa! Oh! No! 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 Dai! Andrea! Andiamo a prendere il vostro sito! Guarda! Non vedo! Fatti saltare! Marcature! Secondo paolo! Bravo! Tieni la lì! Tieni la! vai fuma che arriva, subito Colle bravo Samu bravo Samu bravo Samu vieni la bravo vai Colle forte che la prendi bravo bravo il tiro no respira il tiro respira lì bravo chiamatemi sai che ce l'hai? non lo hai? non lo capire prima o meno no, subito tagliala lui portala avanti per se vedi calciarda lì mi metti le calcio al volo no bravo Andre si ma si si no dico ma dico ma dico bravo quando fanno la parere che magari va guarda ma 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 Questa è la partiera di Veniera? La partiera di Veniera Ah, la partiera di Veniera Questa è la partiera di Veniera Si viene e va, sempre veniva La partiera di Veniera Parti saltare! Sì, 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 sì... Sì, sì, sì... Senti le marcature!